Ragazzuoli prima di cominciare vi volevo invitarvi a lasciare un pollicione su questo video e devo spaccare il tasto perché siamo riusciti ad arrivare primi in Italia e ventottesimi in Europa in questo torneo in duo organizzato dagli Atlantis, questo è un team europeo famosissimo, essere arrivati ventottesimi in Europa è un risultato incredibile, volevo fare i complimenti a tutti i team italiani perché siamo andati benissimo tutti davvero, quindi sono un sacco contento perché finalmente riusciamo a fare qualcosa a livello italiano, non solo STR, tutti i team che hanno partecipato, quindi bello raga. Mi raccomando iscrivetevi al canale, queste qui erano delle partite che i ragazzi hanno vinto, giocheranno Boosted Zid, guardatevi il video ragazzi perché il mio obiettivo in STR è farvi conoscere il team il più possibile, per questo è che usiamo il mio canale che ha 300.000 iscritti per pubblicizzare i ragazzi, quindi ragazzuoli guardatevi il video, forza STR, forza Italia, let's go! 28 team, sono 56 persone. 28 team, sono colapsi 28 team che è servita per quest'anno al peace di B 28 team che ha trovato qua 28 team,iamo ritottene 28 team che ha trovato 28 team che hanno trovato c'è un po' di roba qua io c'ho 10 bende qua ci sono altre 5 2 shieldoni lo detiro lo detiro entrambi o te ne do uno a te? eh non lo so dai perchè io ancora non ho trovato niente non lo so c'ho un po' di paura di non trovare niente ne la tene uno per ora eh si ok cazzo sono in silenzio ragazzi perchè sto fregando oddio i membri di str avranno uno sconto di red bull red bull è sponsor di andrea ok di conseguenza riuscire allora fagli arrivare qualcosa si può fare se scrivo a red bull è probabile che red bull gli mandi qualcosa secondo me se spingo un po' però red bull si è io gli ho proposto il progetto vi hanno detto è un progetto molto interessante aspettiamo per poter lavorare con voi lavoriamo con te con andrea perchè? perchè fortnite e epic games non vuole associazioni con nessun energy drink ok? quindi attualmente siamo messi così che non è male vabbè io sto full full 92 ma ci spettiamo almeno quello oh my god io sto aspettando aspettalo aspettalo lontano 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 è una buona lobby questa è un ottimo lobby per fare tre punti facili dai io ci spero è un botto oh io direi che possiamo starcene qua buoni buoni si finchè non vediamo la serie più c'è rampino anche te vero? no io non ce l'ho è un'ottima lobby raga io c'ho due trappole l'hai presa vero quella che t'avevo lasciato prima si 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 guarda qua sotto ha gli aerei c'è uno che hardpick lo vedi? tra i due hs quello ieri? quello in fondo? eh no quella è 120 mamma mia ha il distortion! nooo ha killato distortion e ha giocato il pop-up europeo con 120 di ping sarebbe sarebbe molto 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 difficile che stia giocando il tournè perchè comunque ci sta spesso giocano gli americani giocano i tournèi e UPEC sono più difficili però forse non è tb9 forse non è tb forse è sunlight distortion e basta devo andare a vedere dopo saliamo il mattone tipo di tre che forse non è lui uno due no vabbè si tre il terzo io lo farei eh vabbè l'avrei fatto dopo che se la si farà nostra si si ma forse non ha il tb ora che ci penso tanto c'è la gente sulla montagna 2.10 quindi adesso qua vuole eh esatto si si questi qua sono tre punti questi qua questi qua sono tre punti si si occhio ai pad che si io sono stra chiuso io no dico se si si ma è vero è vero è high distortion senza senza tv è vero quelli sopra 2.10 hanno spiegato un po' tutti i materiali anche l'altra volta uscì la cosa ma non potete beccare di più in realtà abbiamo beccato di più al pop up quella cosa da legno perchè stava giocando il pop up il pop up europeo stavo giocando mi pare che danno mattoni i bordi esterni bella nick bentornato bro 10 minuti 10 mila si uno spara dai raga non giocatemi male i tre punti nooo non giocatemi male i tre punti uno difficilissimo fare quello che stanno facendo comunque uno se lo aspettano se lo aspettano inutile 25 player neanche tanti buono buono andiamo insieme c'è gente anche la moderna si ok vuoi andar sopra moderna? ci facciamo se andiamo sopra moderna è perfetto ok vai sopra vuoi andarci con rampino? eh io ce la faccio easy vai 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 qua rampino tu vaici con rampino tu tranquillo io ci arrivo ah ma stanno salendo vanno contestato vanno contestato l'aigran zzz fermati non salire non salire non salire sono sceso io sono sceso sono qua dicine a te vabbè è ovvio questo è tutto nostro vero? sì sì vedi ero oh è buonito quello lì che fa sub 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 un'altra parte 66 33 doppia dico 3 2 1 3 3 dai ma rapo boostart easy boostart che l'art pick e noi picchiamo da qua sotto al massimo c'è una slurp? c'è roba? un agio occhio da sopra ancora ci picchiano sì sì vediamo come la safe forse possiamo andare guarda quelli che erano adesso sì sì 3 1 3 1 shield anche più attenti 26 26 shield non è ancora top 12 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 qua questo è loro quello hai pad per caso? no 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 eh magari il pad o rift o ma guarda una busta con rampino secondo me può far bene eh secondo me busta con rampino può far bene nooo nooo è dentro è dentro guarda no cadi occhio cadi posto posto c'è uno sotto? mi è shield? mi è shield? mi sono meglio tra messi ti bisogno in teoria è top 12 riprendili riprendili sono 14 in teoria è top 12 in teoria è top 12 dai 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 ma qua abbiamo del loot abbiamo un rampino what? ho preso il rampino io andiamo in due andiamo in due per rampino va bene? si si a voglio aspettiamo un po' però aspettiamo un po' to' chiusa però scusa Vado in ferro io adesso, intanto c'era un bordello Sì, vado in ferro anch'io adesso Occhio a quelli col pad Vedi quelli sotto, soprattutto Vado per l'aground io? Sì, sì, vai Madonna Stanno salendo stoffa qua? No, 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 zid Chiudi civino, bravo, fermati, bravo Sono rimasto fermo, sì, sì Sì, scendi, scendi, scendi Erano troppo altri, scendi Mamma che macchina Qua ci si gioca la top 5 addirittura Qua addirittura si si gioca la top 5 Sono 5 punti Sì Ho sentito un retto Vabbè, era sotto però Qua, qua? Continuiamo qua Ti copro a destra io, ti copro a destra Tu vai dritto, tu vai dritto Dobbiamo salire? Ti copro tutto io, ti penso tanto a fare le scale Ce ne abbiamo close qui lì sopra Sì, sì E anche sotto Tenisci, vieni Aspetta No, vabbè, vabbè, lasci perdere Va bene Ti matano 9? Io c'ho ancora un colpo di rampino in casa Vieni, vieni, vieni Io ho usato un botte di materiale di 200, te lo dico Tieni Aspettami qualcosa Vai, apposta, vai, vai Ho dato anche il legno Vado di rampino lì, con la scala Mi metto qua sotto Cazzo Posto Bravo, zi Eh, ma come cazzo sai È tua, è tua, è tua, è tua, è tua, zi È tua, è tua Quella di mattone lì Era sua Eh, lo han chiuso Sono forti, porca troia È tua, è tua, è tua, è tua, è tua Tipa da Eh, vabbè Una biscotta No, po' zi Ok Io scelgo un po', eh, non troppo Senta, è sopra, che magge Se c'hai un camper vado a perdere i lock Se posso far cadere qualcuno lo faccio cadere io Sì, sì E tenti pronto Madonna, zi Lui ho fatto 88 Eh, stai a metà Lui, che cazzo di kill Nooo Ho fatto cadere Ah, sì Ok, ok, vai tranquillo, vai tranquillo Piano, piano Ma non ce la vai a prendermi Con calma Mi serve il loot Più c'altro Ehm C'è, zero materiali? No, ne ho però No Cazzo qua Vabbè, è bene uguale 5, 5 punti fatti comunque Bravo Che cazzo E' l'ultimo Sii 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 Bravo, bravo, bravo Sii cazzo no